Due anni di studi per portare avanti un modello di avanguardia e sostenibilità ambientale. La sicurezza sulle piste da sci si trasforma in un software capace di monitorare i rischi e intervenire, chiudendo, se necessario, impianti e zone a rischio valanghe. L'avanguardia nasce in Abruzzo. Noi, utilizzando un supporto GIS, siamo in condizioni adesso, per tutto il comprensorio turistico montano, di verificare istantaneamente la situazione che riguarda la sicurezza delle piste, la sicurezza al pericolo valanghe, le condizioni di sicurezza rispetto alle procedure di manutenzione preventiva e controllo periodico sugli impianti a fune, e di attuare una serie di interventi che devono essere rivolti a facilitare l'accessibilità al comprensorio, principalmente da parte di utenti diversamente abili, ma anche da parte di utenti normalmente abili, perché l'accessibilità è una funzione, un requisito che riguarda tutti e che consideriamo nei comprensori montani assolutamente importanti. Un progetto che si preoccupa non solo di monitorare i suoi rischi ad alta quota, ma anche di rendere accessibile questi luoghi ai disabili. E' sempre la tecnologia a rendere possibili tali traguardi. Il modello Abruzzo diventa un potenziale apri-file europeo. Il progetto è interessantissimo, perché è un progetto complesso, un progetto in cui c'è il problema della sicurezza, che in montagna è ovviamente un problema enorme, serissimo, e viene affrontato in termini innovativi. Ma c'è anche il problema dell'ambiente e dell'energia, e qui siccome noi sappiamo che ci muoviamo in ambiente di parchi, e però ci muoviamo facendo attività, naturalmente è molto significativo. Infine c'è una piccola chicca, però non è tanto piccola. Lo sport deve essere lo sport per tutti, e cioè lo sport deve essere quell'attività non semplicemente riservata alle persone, persone fisicamente e atleticamente allenate. Ma il movimento e lo sport deve essere riservato dalla prima età fino alla terza età a tutti i cittadini, perché muoversi, fare attività sportive dà gioia, completa, tra l'altro fa anche bene alla salute. Ecco, in questo caso è prevista una modalità veramente molto significativa per poter far accedere a uno sport complesso, come quello di chi si muove in montagna, anche le persone disabili. Mi sembra che in questo ci sia un messaggio anche culturalmente e civilmente importantissimo.